Non hanno fatto niente per costruire questa realtà, quella che oggi è la Brianza. E invece 9 centesimi al giorno per chi si è spacciato la schiena una vita. Per costruire questa realtà, che è la Brianza, per tutti noi. Bene, allora, i prefetti cominciano a tremare davvero. Perché questa volta, come tutte le volte, la Lega non scherza un cazzo.